oggi nel social canale di via novelli è venuto a trovarci andrea ubiali andrea vieni con noi andrea tutto bene innanzitutto benissimo assolutamente come a casa come a casa come a casa allora questo è il comune più bello perché noi vogliamo un salotto è un nuovo salotto questo vuole essere un po molto accogliente è accogliente con tanti giovani tantissimi giovani si trani ricordo la mia adolescenza mi ricordano la mia adolescente che loro poi hanno preparato delle domande sette domande che ti farò non ho ancora letto io perciò perché sono uno si fida si fida però te le presento velocemente sono i ragazzi e ragazze della traccia e nel liceo opera santo alessandro eccoci qua tutti insieme un bel applauso tantissimi invece i ragazzi hanno preparato per te una social card cioè tu sai chi sei tu ma come ti vedono gli altri loro come ti vedono attraverso i social che tu usi so che può essere imbarazzante la vediamo insieme volentieri via la social card di andrea ubiali andrea ubiali originario di zanica classe 1985 si è laureato in fashion media and communication all'istituto marangoni a milano nel 2016 ad oggi si definisce imprenditore digitale e make up artist grazie alla sua pagina instagram dollary of fashion ha raggiunto oltre 154 mila follower ama disegnare i vestiti che vengono poi indossati da personaggi del mondo dello spettacolo infatti parlando di persone famose è importante ricordare il suo lavoro per la showgirl antonella mosetti e la sua intervista realizzata da giosquillo inoltre è stato proprio lui l'artefice del trucco dei giornalisti presenti al matrimonio di chiara ferrani non solo moda ma anche cosmetica sono diverse le foto in cui mostra la sua ossessione per le maschere rigeneranti per il viso perfette anche per i barbuti cosa dire invece dell'amore della sua vita ecco a voi kenzo il suo inseparabile amico a quattro zampe tuttavia l'animale più raffigurato nei suoi capi d'abbigliamento non è il suo dolce innocuo yorkshire ma un aggressivo doberman andrea stesso si definisce blogger con la valigia infatti a quanto pare un'altra delle sue passioni è viaggiare nel suo tempo libero ama truccarsi nel tentativo di assomigliare a jennifer lopez e ilary blasi inoltre non si perde mai nessuna edizione della milano fashion week dove interviene nel suo ruolo di make up artist in aiuto delle modelle altre curiosità sulla vita di andrea e del piccolo kenzo correte libreria e comprate il suo libro autobiografico i am andrea dove racconta senza peli la storia di un fashion blogger di successo un fashion blogger forse però troppo amante di photoshop come tutti l'ultima immagine era senza peli in questo caso era ancora ero glabro in pratica sono stati bravi sono stati molto caspita pazzesco si sei ritrovato sei tu anche sul photoshop in realtà effettivamente non era poi una cattiveria tutti lo usano quindi che peccato c'è a dirlo no anzi chi non usa photoshop instagram comunque non si può fare questo lavoro senza utilizzare photoshop siamo nell'epoca dei filtri eh qui hai fatto un lavoro sui filtri io li chiamo sparafresciate insomma proprio all'ennesima potenza ma è neanche un po proprio tanto è il massimo bisogna usarlo? si ve lo fanno tutti quindi è perché bisogna tirarsi indietro no dimmi un po' una cosa dopo tra l'altro punto i ragazzi hanno fatto delle domande che riguardano anche alcune delle cose che abbiamo visto io sono curioso invece di sapere sempre l'origine delle persone no? perciò da che famiglia nasci? come a Zanica? a Zanica si quindi come era la tua famiglia? i genitori? ma una famiglia normalissima semplicissima comunque lontani proprio anche dall'ambiente della moda nel senso che mio padre lavorava in un altro settore adesso comunque che settore era? sono curioso del legname legname cioè il falegname oppure? no lavorava in un'azienda gestiva un'azienda di una falegnameria no? insieme ad altre persone l'ha fatto per tantissimi anni adesso è felicemente pensionato ti portava mai il falegname è un po' affascinante? si sai un po' come tutti i genitori cercano quando magari ti diplomi e devi incandarci poi nel mondo del lavoro di inserirti come si utilizzava una volta certo quanto loro esatto è giusto insomma l'orgoglio anche da genitore di riuscire a incandare il figlio nel settore del padre per prendere poi le redini però in realtà ha capito che non era ognuno penso che abbia un po' un percorso è stato accettato il fatto che tu comunque avessi altre sì certo assolutamente anche perché ho fatto una scuola turistica e la mia idea era proprio quella di viaggiare andare a vivere all'estero quindi di sperimentare esperienze nuove no? e avevano messo comunque un po' loro in in presupposto che prendessi questa strada poi la vita riserva altro però ecco una famiglia normalissima semplicissima mia madre era una casalinga fa la casalinga e adesso anche lei ha cominciato un po' questo percorso a fare qualcosina grazie un po' al mio aiuto gioielli bigiotterie vivendo un po' in qualche negozio insomma si è reinventata arrivata ai 50 anni si è reinventata penso sia giusto per una donna in realtà ha raggiunto uno step e se si è dedicata comunque alla famiglia a un certo punto anche per una gratificazione personale reinventarsi in un qualcosa che ti piace lei è molto più vicino al mio settore nel senso che essendo donna comunque le piace è più difficile reinventarsi per tuo padre esatto sarebbe stato bizzarro un gioiello di di frassi no? esatto ma però è una bella cosa questo il concetto del reinventarsi non c'è anche sempre evoluzione tanti sono fermi sono statici invece e poi non è mai troppo tardi mai effettivamente no l'ha fatto tua mamma tante persone no ma io non e lo vedo un po' si vede un po' si vede il mondo della moda o anche del make up si vede un po' come un mondo lontano effettivamente ha un mondo a sé rispetto al mondo classico comune però se uno ha passione e vuole entrarci lo può fare poco per volta in realtà come mai invece allora la tua passione da dove nasce come mai ma sin da piccolo ho sempre avuto una passione per la moda facevo lo dico sempre facevi banchettini con mia cugina vendevamo l'intimo confezionato puntare all'intimo a mia zia insomma mia nonna facevamo questi banchettini immagino la tua nonna l'intimo che regalavi non è che era l'entusiasta proprio l'intimo di vent'anni fa non è procace come quello che c'è adesso in realtà quindi era già un po' più era più casto però abbiamo incominciato così quindi ho sperimentato un po' insomma è una cosa che ho sempre avuto poi crescendo nell'adolescenza come poi penso tutti i ragazzi la passione per le marche insomma per l'influenza non esistevano ancora in realtà in quegli anni però insomma le marche i brand la voglia di stare comunque alla moda oppure di vedere cosa andò su un giovane poi lo voglio mettere anche io insomma è un po' è quello che fanno poi la generazione comunque dei teenager no sì l'abbiamo fatto da tanti è normalissimo è una cosa anche giusta lo spirito di imitazione la propria personalità col tempo non è mai sentito però adesso un po la pecora nero oppure stato additato non so anche il fatto che poi magari ti prendono anche in giro a volte no in realtà no perché non sono non mi sono mai posto in un modo ecco quella cosa che non mi piace è l'essere bizzarro c'è quindi quel look troppo appariscenti non sono non mi piacciono in realtà sia sugli uomini che sulle donne a maggior ragione sull'uomo e no andavo comunque vestito magari col jeans magari in sé che mettoni la snickers mettevo un anfibio amavi dottor martins in realtà quando li mettevo io che andavo al liceo non l'indossava nessuno perché proprio molto panca adesso tutti hanno quello quello e dunque vedi è precursore di tendenza precursore di tendenza paolo ti piace chi ha la dottor martins qui eccola qua subito di tendenza grande e per noi è anche un po diverso appunto una volta ad esempio gli uomini erano un po esenti la mia generazione paolo sei più giovane di me però erano esenti non dovevano occuparsi di questo era prettamente femminile adesso invece sia nell'abbigliamento che nella cura del corpo assolutamente anche la parte maschile ora sono molto attenti sono molto diciamo che sono anche fin troppo attenti dovrebbero restare non sono più secondo me i ruoli sono importanti nel senso che è giusto con uomo sicuri ma non tanto quanto una donna nel senso che i ruoli ognuno deve stare al proprio posto se pensiamo che come dicevi come dicevi tu ti do del tutto 30 anni fa comunque anche sul rossetto rosso per una donna era impensabile perché alludeva insomma ad una malizia adesso lo usano dietro nella scuola dunque vedi proprio il cambio generazionale e culturale anche in riferimento ad un qualcosa che è sempre esistito gli uomini si curano molto più delle donne e tante volte a me fa anche quasi impressione io trucco spesso anche degli uomini in realtà è vengono a farsi truccare comunque da me e mi fa senso però mi sono abituato non fa senso ma mi sono abituato vedi come al cambio generazionale è vero perché vedo ma anche nel mondo dei calciatori adesso che sono gli idoli degli attori più calciatori che gli attori indossano delle maschere per mestiere perciò non sai mai il trucco se fa parte della maschera non so i calciatori questo modo questa eccessiva eccessiva è una parola questo cura comunque che hanno il calciatore ancora sì però rimane sempre piuttosto attaccato alla figura classica dell'uomo lo stereotipo no quindi uno sportivo io parlo comunque di uomini magari comuni che per uscire a cena con la fidanzata vengono a farsi mettere la cipria vedi come proprio il cambio che cambio generazionale e culturale a me farebbe senso se fossi la sua fidanzata però in realtà ognuno poi vive e fa ciò che vuole paolo si è fatto mai mettere la cipria no però tiro che paolo fa fatica a lavarsi i denti quindi io dico magari la cipria no però ci potrei provare cioè sui denti la cipria mi fa specie però che poi vedevo uscire con una ragazza insomma sai ti ripeto i ruoli sono fondamentali non dovrei dirlo però effettivamente dico quello che penso quindi ognuno ha il proprio ruolo insomma l'uomo l'uomo la donna la donna poi ci sono diverse sfaccettature però il trucco a meno che siamo in televisione queste cose giusto per le per le luci però al di fuori ho anche dei ragazzi che si fa mettere la matita sotto l'occhio è per ingrandirlo per sembrare più beh anche molti rapper in realtà lo fanno i rapper lo fanno tipo tu che sei un po qua per esempio anche i rama tende a mettere la matita però la utilizza color ghiaccio grigia quindi in realtà non si vede molto poi ci sono alcuni rapper come è so io non è che li conosca proprio quelli che hanno vinto amici un po di anni fa the colors ecco loro lui per esempio si trucca gli occhi in realtà mette la matita però sai è un discorso di scena un po come facevano i kiss ecco si truccavano ci sta però poi al di fuori sono persone comuni andare fuori a cena e mettersi la matita dici boh vabbè poi dopo ognuno per me è tutto lavoro in realtà e quindi venga così l'etica del lavoro presente preserva la responsabilità giustamente non ha fatto delle domande mi piace moltissimo andrea che bel personaggio abbiamo trovato grazie grazie mi piace le persone che comunque dicono quello che penso ma hanno qualcosa anche da dire ma pensano anche quello che dicono è quello di questo allora cosa trovi di affascinante nella minano fashion week i nostri ragazzi la prima domanda è questa cosa trovi di affascinante beh è una settimana particolare nel senso che si colora di più ancora di quello che che offre come città capitale comunque un discusso della moda nel mondo dopo new york quindi è di parigi più di parigi sono due mode due modi di vivere la moda completamente diversi parigi alta moda e milano è più preta porte dunque proprio anche diversificazione di chi ne partecipa proprio anche nelle strade comunque si vedono tendenze diverse è bella perché si vede le persone che non anche non lavorano in questo settore riescono effettivamente a vedere cosa vuol dire lavorare in questo settore e vedere le persone colorate che ci lavorano all'interno quindi non so blogger influencer piuttosto che giornalisti o persona che dire di alcuni redazionari non so come anu inture che comunque la vella incontri la veglia le sfilate per molte tante persone infatti si appostano fuori dagli show non so più più ricercati come alberta ferretti o versace per vedere non so chiara ferragni fedez oppure anche la giornalista super rinomata la notte degli oscar ma lunga una settimana ci sono anche alcuni eventi che rimangono aperti anche al pubblico ma non puoi darci qualche dritta su cosa che adesso non va di moda ma tra poco va di moda così la compro che costa poco poi ma in realtà adesso come la moda è tutto un reinventare quindi a prendere dal passato e fare qualcosa di nuovo non ci sono ancora delle cose da dare dalla nonna a cui era tornato intime e rubare qualcosa lei esatto si fosse magari rubando l'intimo della nonna quindi il mutandone anni 50 tornerà magari tra vent'anni al posto delle un pioce lo prendiamo poi vediamo però in effetti è tornato di moda il marsupio che io detesto però è tornato di moda io io lo detesto molto anche a me non è grave possiamo non usarlo ci troviamo siamo abbiamo qualcosa in comune al marsupio ma su bandito bandito l'ha fatto tutti ma di moda se volete usarlo anche voi uomini però per noi è proprio brutto qual è invece il campo il tuo capo di abbegnamento preferito nell'uomo la giacca il doppio petto doppio petto doppio petto questo è un doppio petto no è una giacca a doppio petto ma sotto non ho il panciotto in realtà che sarebbe il gilet che si mette tipo questo è la giacca io ho il giletto esatto vedi siamo coordinati coordinati da due ne facciamo uno mi facciano molti per questo nell'uomo l'eleganza e anche l'abbigliamento sportivo quindi streetswear jeans la sneakers la felpa anche per le occasioni normali jeans adesso stracciati con la oppure integri di moda il fit slim quindi molto stretto lo skinnico addirittura è quasi una sorta di leggings prova ve li chiede una certa in certo tipo di fisicità una gamma molto magra nell'uomo e anche nella donna hanno muscoloso nell'uomo deve essere molto muscoloso al jeans la gamba alla lupen esatto sì che poi è quello che la moda propone costantemente modelli anche fin troppo magri in realtà che hanno anche la mia età quindi sai io penso che ogni età abbia una sua fisicità però nella moda giustamente sfidano comunque corpi magri descrivi in tre parole il mondo della moda caspita questa domanda difficile tre parole il mondo della moda allora serio rispetto a quello che si pensa spesse volte per magari spiego il perché affascinante ed intelligente nel senso che è un mondo serio perché comunque tutti noi anche la persona che va in un grande magazzino senza passare dalla griffa tutti noi ci vestiamo no dunque la necessità dell'uomo di uscire di casa vestito è comunque andare a comprare qualcosa da indossare e chiunque può fare moda in realtà chiunque può fare moda in realtà la moda trovi dappertutto dalla grande griffa grande magazzino quindi un mondo serio perché le persone che ci lavorano fanno uno studio anche per darti una sorta di contentezza di felicità fare shopping comunque spesse volte aiutano e quindi alle spalle c'è un qualcuno che crea un qualcosa per farti comunque stare bene anche se può essere superficiale però serve anche per farti stare bene quindi un mondo solo per le persone che ci lavorano insomma studiano e e danno dedizione no per quello che fanno è un'altra cosa che avevo detto affascinante affascinante perché comunque piace piace a tutti alle donne piace agli uomini si vede insomma la moda è fatta la moda un sogno le donne vogliono sognare quindi si rivedono in queste top model in questi abiti che sfilano no e quindi è affascinante perché ti regala un sogno e l'altra cosa che mi ha detto vediamo se vi ricordate mi ricordate la seconda intelligente perché è un se che non potevo ricordarmi era intelligente non mi ricordavo intelligente perché è un mondo che dà lavoro comunque tantissime persone sono tantissimi gli operatori poi che lavorano anche alla fashion week ma proprio dietro anche allo studio di una linea no dal direttore artistico quello creativo allo stilista stesso e poi sai quando comunque in un settore girano tantissimi soldi significa che quel lavoro è svolto in maniera egregia che consiglio daresti invece chi vorrebbe diventare un make up artist passione poi è un dono anche quello secondo me la manualità nel senso bisogna avere una mano come gli artigiani esatto anche non so quelli che scolpiscono il legno insomma un po lavoro di manualità e anche di studio bisogna studiare formarsi fare continuamente corsi di aggiornamento anche perché anche lì veramente le tendenze galoppano cioè quasi da se c'è qualche ragazza qualche si trucca che gli piace truccarsi c'è qualcuno chi lei tu davvero che consiglio puoi vuoi avere da andrea che qua come non so valorizzare gli occhi vi do un segreto per mettere il mascara dai cos'è me non lo tenete per voi e vai mascara il mascara si tutte voi lo metterete col cursore infatti tantissime ragazze spendono un sacco di soldi perché non trovano mai mascara giusto per il pennino ah perché fa i grumi scusa perché io sono proprio ignorante vedi non mi trucco mascara è quella cosa che poi ti metti sulle ciglia? esatto sì esatto mi guarda disgustata però è giusto che non lo sappia lui dai non sono di quegli uomini cioè quella cosa che tipo è uno scopino calma non si può dire la forma è di quello scopino che usi per pulire le bottiglie non è quella forma un po' attorcigliata quello del calorifero per passare il calorifero però in piccolo nero che poi fanno così sugli occhi e fanno poi così quando li finisco ok ho capito i tanti vabbè spendono un sacco perché non riescono a trovare un pennino un cursore che sia adatto perché poi mascara forma i grumi no? niente voi togliete il vostro mascara col pennino lo lasciate bene imbevuto di colore prendete il pennellino quello sottile per mettere l'ombretto proprio lo sfumino bagnate passate il cursore sul pennino e vi pennellate le ciglia con questo pennellino non del mascara quello dell'ombretto le pennellate molto velocemente dall'esterno verso l'interno vedete che riuscirete a mettere più prodotto non vi fornerà non mi formerà i grumi perché in realtà quello che voi catturate nel passaggio è la crema colorata e non la soluzione chimica che poi forma il grumo avrete le ciglia molto più distese e curve anche senza il piegaciglia poi prendete l'eyeliner nero o marrone lo passate sempre sullo stesso identico pennino e terminate con un finish con l'eyeliner sopra l'ombretto avrete l'occhio il ciglio bello incurvato e soprattutto l'effetto wet quell'effetto bagnato che l'avete appena messo ma magari sei ore che l'avete questo è un segreto bellissimo che usano di vedere lo spettacolo per avere sempre gli occhi perfetti effetto wet effetto bagnato quindi prima mascara poi eyeliner con lo stesso identico pennino importante pulire sempre i pennelli che utilizzate perché la pelle è ricoperta di batteri e a lungo andare si possono sviluppare anche delle pelle seborroiche quindi l'acne insomma tante cose ogni cosa che utilizzate va sempre detersa con detergenti apposta però posso dire una cosa sono talmente giovani quindi in realtà hanno tempo di truccarsi mi ricordo quando andavo a scuola io tra medie superiori ci si truccava molto penso sia anche giusto nel senso che se loro mi odieranno tutte però pazienza nel senso che la scuola è un ambiente didattico quindi in realtà meno si va truccati meglio è quando poi una persona esce dalla scuola può far tutto ciò che vuole anche nel make up perché vedo tante volte mi scrivono anche tante ragazze che mettono rossetti neri rossi e viola per andare a scuola in realtà se fossi un insegnante a me farebbe un po' senso c'è l'occhio scuro il troppo rossetto al di fuori poi va bene poi sono talmente giovani hanno comunque una bella pelle hanno tempo di poterla pesantire con Paolo Paolo no no ti voglio qui Paolo questo è un discorso didattico mi piace l'è sollevato adesso tu cosa le dici Paolo è come la questione della divisa scuola sì o no la rivaltiamola così secondo te divisa scuola alle superiore abbiamo proprio avuto la divisa e in realtà non è mai morto nessuno devo dire divisa sì tu divisa no tu divisa sì o divisa no dipende dipende come vediamo perché anche poi si è una bella divisa sì ma deve essere una in cui uno riesce anche a riconoscere perché la divisa è un simbolo di squadra ok quindi se tu riesci ad avere una divisa e non pensi solo alla divisa come conformare punte basta ma come elemento identificativo ci puoi costruire attorno tante cose perché è come scegliere il proprio gagliardetto la propria squadra se fai quel lavoro sì anche la divisa ma se non fai quel lavoro lascia perdere anche in Inghilterra ero stato a studiare anche in Inghilterra mi stupiscono Paolo ne sono sempre non sono mai banali e a me non dispiace nel senso poi giustamente un po' di trucco anche andare a scuola ci stanno si truccavano anche le mie compagni però adesso veramente questi occhi proprio scuri questi liner tiratissimi è giusto perché comunque la donna le ragazzine è giusto che si tengano quante volte vedi proprio delle cose e c'è queste ciglia finte non so è un ambiente didattico in realtà dove tu vai lì per studiare e dimostrare quello che comunque conosci non quello che ha l'apparenza capisci cosa capisco però giustamente loro magari vedono questo discorso un po' distorto perché lo vedono magari sotto e ci sta perché è giusto però poi lo capiranno in un futuro quando vedanno le generazioni quelle nuove e lo capiranno che ormai è normale io sono sempre dalla parte delle azioni io mettevo le buffalo quando andavo alle medie fico c'erano le spice girls e poi mettevo quelle robe e nessuno ti diceva che vai a scuola e mi dicevano ma sei fai esatto quando mio papà mi diceva ma come vai conciato a scuola a me piace si nasce progressisti e poi si diventa conservatori esatto conservatori poi sulla divisa sono d'accordo sono delle divise bellissime tra l'altro per le ragazze con le gonnelline con le calze col tacco mi ricordo in Inghilterra un po' anche il tacco 10 mettevano queste ragazze nella scuola con la calza nera il tacco in vernice avevano la calza nera la gonnellina era una scuola inglese a Cambridge vicino a Cambridge e avevano le scuole non possiamo fare un'alternanza con loro Paolo magari che possiamo organizzare possiamo fare un'alternanza col tacco se vuoi con le camicie bianche e la giacca a doppio petto ed erano bellissime queste ragazze anche senza trucco erano bellissime la divisa così è bella certo se devono fortificarle anche no se è solo per conformare per uniformare no invece può essere mi mancano ancora tre cosa ti ha spinto a scrivere una biografia è la mia tesi di laurea in realtà l'ho autoprodotta e poi l'ho proposta cioè hai fatto la tesi su di te sì quando mi sono andato ho fatto questa tesi ho fatto un po' di egocentrismo insomma anche di esami di narcisismo è un pochettino sì un po' sì meno in meno ho fatto questa tesi dicono sempre cosa scrivere ho fatto insomma ho raccontato un po' la mia storia e parlo di qualcosa che conosco me esatto hai mai indossato qualcosa non alla moda solo perché ti piaceva? io sono proprio così in realtà io indosso tutto quello che in realtà non fa tendenza capisci? vedi che c'è che lavoro che mente quasi distorta no però è un po' come Nanni Moretti mi si nota di più se vengo mi metto in un angolo o se non vengo tu uguale ti si nota di più se metti qualcosa che non è omologato no oppure è un modo di distinguerti sì non tutto quello che fa tendenza è bello ok questo è un messaggio importante non perché lo indossa una super mega blogger che significa che sia fantastico sono delle cose orribili delle cose belle anche in un mercato io sono molto fan delle avendo vissuto anche a Londra dell'abbigliamento second hand quindi seconda mano il vintage stanno arrivando anche da noi i negozi dell'usato dunque dove trovi i capi magari di vent'anni fa che se poi tu distrutturi reinventi e ricrei magari hai un capo che nessuno ha che non è più neanche in produzione per me è quella la tendenza perché tu vesti dei capi che gli stilisti comunque ti propongono e perché per loro è la tendenza ok quello che potrebbe essere la tendenza dell'anno prossimo però tante volte o non ti stanno bene oppure sono delle cose talmente folli che magari sai uno deve avere veramente una personalità molto eclettica per poterli indossare oppure non lo so penso che sia un po' e per quello che io non mi definisco tanto un influencer non mi sono mai cioè la gente mi segue per il lavoro che faccio perché magari spesso va in tv sui giornali o vesti i personaggi della televisione quindi ok ma non per dire alle persone di come vestirsi perché ognuno ha la propria personalità il proprio gusto quindi non sono nessuno per obbligare una persona a dire se tu non metti questa cosa sei out ma in realtà quella persona magari ha più stile di una persona che da capo a piedi segue la tendenza del momento la personalità la personalità è importante l'influenza significa influenzare poi anche le persone a seguire come ti vesti tu e per me questa cosa è contoproducente ed è anche sbagliata perché vuol dire annullare comunque una persona su un proprio gusto tu devi influenzare le persone a seguire la tua strada per avere il tuo successo quindi chiederci sempre a rendersi mai per seguire un obiettivo e arrivare è denso di contenuti Andrea bisogna stare in tutti i settori però obbligare una persona a dire devi mettere queste scarpe se no sei out lo trovo molto superficiale in realtà perché ci sono tante altre scarpe che sono meravigliose uguali anzi più belle magari due cose ancora che ti voglio chiedere uno dei personaggi famosi abbiamo visto prima hai truccato al matrimonio di Ferragni della Chiara Ferragni sì l'anno scorso l'anno scorso settembre e poi però conosci anche tanti nel mondo della moda come sono i personaggi famosi come li vediamo oppure sono diversi ci vuoi raccontare qualcuno che magari lo vediamo in una maniera ma è un'altra maniera allora in realtà ho vestito diversi personaggi della televisione anche da Barbara D'Urso e anche come è Barbara D'Urso? Barbara D'Urso in realtà non l'ho conosciuta io ho consegnato il vestito a Antonella Mosetti ad altri personaggi e come hai fatto però a scegliere il vestito per Barbara D'Urso? cioè che cosa ti ha? no ma per Barbara D'Urso per Antonella Mosetti per Barbara D'Urso non l'ho mai vestita loro ti contattano la loro agenzia ti contatta ti chiede se vuoi tagli un abito da indossare e tu devi in quel caso perché non è che sono uno stylist quindi tu guardi la persona vai a studiare un po' cosa indossa abitualmente vedi cosa abitualmente lei porta scegli il contesto televisivo in cui deve partecipare quindi un salotto di Barbara D'Urso la pomeriggio della domenica qualcosa di un po' eccentrico ci sta e gli crea un qualcosa che rispetti il suo gusto e rispetti anche la trasmissione in cui è ovviamente fidelizzandoti la cliente in questo modo lei comunque ritorna infatti Antonella Mosetti è una mia cliente anche verso spesso personaggi anche di uomini e donne del parterre del trono overe anche conduttrici di Sky ti pagano? ora in realtà funziona così il primo abito in realtà tu glielo dai in omaggio i secondi poi subentra giustamente una collaborazione commerciale dunque è anche normale nel senso non ti pagano loro ma ti paga l'azienda che mette i suoi abiti oppure gli sponsor tendenzialmente sono gli sponsor ci sono degli sponsor che comunque su cui storni su cui scarichi la maggior parte delle spese perché comunque i personaggi della tv sono un po' particolari però fino ad ora non ho incontrato persone spocchiose quindi maleducate o persone insomma tranquille bella come è normale questa è una buona cosa anche in televisione ma l'ultima cosa che ti chiedo invece Andrea nel futuro come si immagina come vede se stesso fare sempre questo lavoro oppure hai altri altri desideri qualche sogno qualche desiderio avevo diversi sogni in realtà la maggior parte li ho realizzati uno che mi sarebbe piaciuto nel breve era di aprire un negozio a Milano infatti sto aprendo un negozio a Milano Centro uno showroom con la mia linea d'abbigliamento e quindi questo era un sogno che avevo e lo sto realizzando sto facendo dei lavori però in realtà a breve lo aprirò il prossimo sogno che avrò è di fare una sfilata tutta mia ho già trovato due location però quando è un momento giusto poi le pubblicizzerò fare una sfilata della mia linea insomma una sfilata mia un uomo o donna no donna però la location che ho trovato è molto bella e invitando poi i personaggi della tv quindi fare una sfilata e un grande evento insieme questo è un sogno che ho uno step successivo poi sicuramente ce ne saranno tanti altri sei soddisfatto della vita che conduci? sei contento? sì sono contento in realtà lavorare facendo quello che ami è come se tu non lavorassi mai quindi il lavoro è quello che una parte nobilità all'uomo quindi chiunque lavori si gratifica da sé in realtà però lo fai per tutta la vita non puoi vivere di nulla se fai qualcosa che ti piace è quello che dicevo prima anche per i ragazzi cioè gli influencer devono imparare ad influenzare i giovani a perseguire quello che loro hanno si sono creati da sé cioè quindi la felicità nel lavoro che fanno ok? perché è quello che va insegnato ai ragazzi è se credono in un qualcosa hanno una passione anche a me tanta gente cercava di smontarmi poi subentro un meccanismo anche degli invidiosi che te lo dicono apposta perché non possono farlo loro dunque tu se vuoi fare una cosa devi inseguirla e se ti ci metti comunque la fai e chi ha avuto successo ed è seguito comunque da tanta gente è il messaggio che deve lasciare alle persone quindi voi fate come ho fatto io c'è più che mettere su una scarpa chi se ne frega seguite quello che ha fatto una persona che ha avuto successo perché anche tu comunque lavorerai essendo felice e questo è il compito che ha una persona famosa ti ringrazio davvero per essere stato con noi è stato molto piacere questo incontro grazie mille dunque Andrea Ubiari grazie 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 grazie